Il gioco d'azzardo con tutte le sue sfaccettature è il vero protagonista dello spettacolo Slot in scena al Teatro Manzoni di Roma. Ne vedo tante di possibilità ma non posso metterle in pratica. Ma perché no? Perché non ho ancora preso il portodarmi. Ci vedete in scena, questa è la nostra scena di Slot, uno spettacolo di Luca Debei. Siamo qui al Teatro Manzoni fino al 14 novembre. Manzoni di Roma. Tu hai speso mille euro in un mese, si può sapere come hai fatto? Io non capisco. Evidentemente non sei una donna. Certo che no, ma io conosco donne che non li spenderebbero. Donne tristi immagino. La signora Quattrini. È la signora Barale, Mauro Conte, è mio figlio e la mia rivale. Sì perché la mascalzona mi prende il marito e poi mi rovina, mi distrugge psicologicamente. Potrebbe far pace con mio padre, ma per avere dei rapporti civili. Ma dai, far pace con tuo padre, non credo. Ma perché no? Perché tuo padre dice sempre che è come se fosse scampato ad una guerra nucleare. Tanto che allora io mi do... Alla ludopatia. Alla ludopatia. Lotteria di Capodanno? Non la buttare, eh? Potrebbe essere quello buono. E questo cos'è? Super enalotto? No, no, quello lo puoi buttare, non ho vinto. C'è sempre un dramma, no? È una cosa tutta da ridere. Parliamo di cose serie, ma sorridendo. Giada, non è il mostro che tu pensi. No, no. L'hai mai vista senza trucco? Vi aspettiamo. Venite. Vi aspettiamo. Grazie.